Sono in corso all'oreggia le indagini per risalire l'autore dello sversamento di liquami da stalla nel corso del Muson Vecchio. L'allarme è scattato quando i residenti si sono accorti del terribile fettore che si elevava dal fiume e sul posto sono accorsi i tecnici del comune, l'ARPAV e i carabinieri che hanno trovato un lungo tratto annerito dall'erciume. Pare dalle prime indagini che il liquame possa essere riconducibile alla pulizia di una stalla. Su tutte le furie il sindaco Fabio Bui, presidente della provincia, che sulla sua pagina Facebook invita i responsabili di questo scempio a costituirsi prima che le verifiche del caso lo inchiodino alle sue responsabilità.